Ciao portieri, in questo video vi mostrerò la nuova versione degli Aridas Estrans Pro NC nella colorazione Magnetic Storm Pack. Per iniziare togliamo la pellicola che protegge il palmo. Un palmo Ivo Zontek con schiuma ammortizzante migliorata. Anche in questo modello il palmo si estende fino al polso. La zona antiabrasione è stata ridotta in modo da aumentare la superficie di lattice altamente performante. Il taglio è negativo, con cuciture interne tipico di Aridas. Indossando il guanto possiamo notare l'assenza di cuciture fastidiose su tutta la struttura, così da renderlo ancora più comodo. Il corpo del guanto è formato da un materiale molto comodo e leggero. Il dorso è formato da questi inserti in silicone posizionati in questo modo, per rendere il guanto più flessibile e per ottenere delle respinte di pugno precise e sicure. La chiusura è formata da un cinturino molto lungo che appoggia il polso come un guantone da box. Il polsino è molto stretto e per questo è stata ideata questa parte elasticizzata per favorire l'entrata della mano. Questo modello è praticamente identico agli altri E-Trans Pro realizzati per questa stagione, cambia solo la colorazione. Per il resto rimane un ottimo prodotto che consigli ai portieri chiamano un guanto leggero e con una presa magnetica. Se siete interessati all'acquisto di questo guanto, visitate il sito keepersport.it. Ci vediamo alla prossima, portieri! Ciao!